Da domani sarà possibile presentare le domande sul reddito di cittadinanza, la misura varata al governo e cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una misura che dovrebbe contrastare la povertà e rimettere le persone che hanno perso il lavoro all'interno del circuito a domanda offerta. Ma questa misura per il momento rimane nel limbo. In Sardegna la platea potrebbe essere di 200.000 persone. La settimana prossima il decreto che in scadenza dovrebbe essere convertito in legge e ci potrebbero essere delle novità in questo senso. Le domande potranno essere presentate negli uffici postali compilando il modulo IMSS, nelle sedi dei CAF, online sul sito del reddito di cittadinanza, se si è in possesso dell'identità digitale Speed. Al beneficiario si chiede di firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Lo stesso devono fare i componenti maggiori e non occupati dalla famiglia. Al momento però manca un accordo con le regioni sul ruolo dei navigators che nel progetto del governo dovrebbero fare da guida l'inserimento del lavoro di chi avrà il reddito di cittadinanza. Hanno diritto alla misura i cittadini italiani o comunitari e gli extracomunitari con permesso lungo di soggiorno residenti in Italia da 10 anni, di cui gli ultimi due in via continua attiva. Il reddito minimo familiare è quello inferiore a 6.000 euro a anno e moltiplicato per la scala di equivalenza, al massimo 2,1 nel caso di famiglia numerosa. La soglia del reddito sale a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto. Per poter fare domanda del reddito di cittadinanza bisogna avere un ISEE. La domanda viene comunicata all'Inps entro 10 giorni dalla richiesta. L'Inps verifica il possesso dei requisiti e in caso di esito positivo riconosce il reddito che sarà erogato attraverso una carta di pagamento elettronica emessa da posti italiane. Tre motivi di decadenza del beneficio. La mancata dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Se non si partecipa all'iniziativa di formazione o si rifiuta un'offerta del lavoro congrua. La presentazione e dichiarazione di documenti falsi viene punita con una pena dai 2 ai 6 anni in reclusione, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito.